Mi disturbi affatto, guarda, ho mangiato un umilissimo piatto di bresaola con il grana, quindi. Allora, intanto la griata che ho fatto era superba, il presidente dice sempre che le costine sono crude, quindi ci sono proprio la stessa. A me è piaciuto. Oddio, cos'è sta roba qua? Però, però devo essere sincera che il mio staff ogni tanto qualche scherzo me lo fa. Allora, devi portarmi in un minuto un paio di scarpe, quelle che vuoi. Vai! Vado, aspetta. Vai, vai. Faccio un elenco e li dimentico qualcuno, però se vuoi che lo faccio, eh. Dai, qualche nome devi dirceno. Ti voglio solo ricordare che a mezzogiorno e venti me l'ha ricordato mia figlia che dovevo fare questa cosa perché io ero già sulla luna. Mi sono persa la domanda. Bella, eh? Tacco 12, no, quant'è? Eh, mi sa anche di più. Quattro, ma forse 12. Allora, ciao. Grazie a tutti.